Grazie a tutti, grazie perché essere l'ultimo del primo giorno è sempre faticoso. Di cosa voglio parlarvi oggi? Di augmented reality. In realtà vedremo un po' di più, cercheremo di capire diverse prospettive tra augmented virtual reality e cosa differisce quando usare l'una rispetto all'altra. Mi presento, io sono Matteo Valoriani, ho un dottorato al Politecnico di Milano, quindi probabilmente qualcuno mi ha visto anche a fare lezioni al Poli. In realtà ho una mia società che si occupa di emerging technology, quindi tecnologie emergenti e le collaboro con diverse community, tra cui Microsoft e Intel. Messaggio di servizio, alle 6 chiude la metro, quindi se hai visto la giornata di oggi non mi offendo, tranquilli, capisco le necessità. Ecco un po' l'agenda, è un'agenda molto sintetica e poi entriamo in realtà nel vivo. Come dicevo, si parla sempre più di virtualità, che può essere realtà virtuale, realtà aumentata. Cerchere di capire le differenze, secondo me, sono dei punti chiave per scegliere cosa proporre ai clienti e cosa andare a implementare. Vorrei fare un minuto di silenzio per una cara amica che ormai è morta. Salutiamo a tutti i Kinect, che è stato in realtà un elemento chiave per quello che andremo a vedere dopo. Quindi un attimo di silenzio per una amica defunta. A parte gli scherzi, parliamo un po' di cose più serie. Questa è una curva che Gartner ogni anno disegna su quelli che sono i trend del momento. Sono argomenti molto molto parlati, che però ancora hanno un hype altissimo, quelle che stanno in cima al colle, e altre invece che iniziano a parlare meno, sono in quella valle della disillusione, cioè iniziano ad esserci applicazioni, le persone le hanno provate, non era esattamente quello che si aspettavano all'inizio, però sono tecnologie che in realtà stanno maturando. E se vi guardate questo grafico, a due, a cinque anni, come arrivo sul mercato in modo stabile, la virtual reality ormai ha superato anche la fase di disillusione. Vuol dire che applicazioni come PlayStation VR e altre hanno portato una fiducia verso un prodotto che diventerà stabile. Stessa cosa in realtà aumentata, abbiamo visto tante cose negli anni in realtà aumentata, ora dopo un hype altissimo questo sta calando, ma è una tecnologia che sta maturando. Non vuol dire che sparirà. Come siamo arrivati qua? La parlando un po' allontana, 1968, 50 anni fa, bene o male, siamo andati sulla runa grazie a Razzi e grazie a un computer che aveva 2.000 transistor. 2.000. Facendo un salto avanti di 40 anni, 95, 5 milioni di transistor su un personal computer. 10 anni dopo, 2.500, 160 milioni, 1 miliardo nel 2010, 2015, 7 miliardi su desktop o portatili e 2 miliardi su mobile, smartphone. Cosa impressionante è che ovviamente, aggiornando i dati un anno dopo, siamo passati a 10 miliardi su desktop e 3 miliardi e mezzo su mobile. Legge di Moore non sarà sicuramente una cosa nuova, ma di fatto questa è la reale effettiva crescita e rapidità di quello che sta avvenendo. Un paesino di 2.000 persone in 50 anni ha duplicato circa la popolazione mondiale, se fossero persone. Questa è la velocità con cui sta crescendo. Cosa porta questo? VR in realtà, parlate prima di gaming, che è stato uno, o di computer vision in generale. 1996, Tomb Raider, 230 poligoni, tutto l'avatar di Lara Croft. 2016, 90.000 poligoni solo per Lara Croft. E il risultato si vede, forse qui nella slide non tanto, ma se provate a vedere l'ultimo video in HDR di Lara Croft e lo confrontate col primo, notare anche alcuni aspetti, è decisamente diverso. Cosa comporta tutto questo? Beh, è che il mondo fisico, quello in cui viviamo, è un'abitudine che conosciamo da quando siamo nati. Il mondo virtuale, frutto della nuova potenza di calcolo disponibile, non soltanto nel CPU, ma ovviamente anche nel GPU, combinato con cose che stanno nascendo ora, da Artificial Intelligence, riconoscimento e tracciamento delle persone e degli oggetti, permettono di avere un'esperienza virtuale sempre più ricca. Tanto che non ci limitiamo a riprodurre suono e visione, ma ci sono anche sistemi che riproducono la camminata, riproducono profumi. Ho provato anche a riprodurre i sapori, non ve lo consiglio, degli elettrodi in bocca non è molto piacevole, però è quello che sta avvenendo. Quindi abbiamo un sistema di realtà virtuale sempre più realistico e a volte si possono anche confondere, virtuale e realtà, in alcuni casi fai fatica a separarli. In realtà non ci sono soltanto questi due estremi, sono due estremi di un flusso che è stato definito all'incirca, a metà anni 90, che si chiama il virtual continuum. Da una parte abbiamo la realtà, quindi le nostre esperienze sono nel mondo fisico, di quale siamo la virtual reality, esperienze che sono in un mondo completamente virtuale, ma abbiamo anche esperienze augmented reality, dove l'esperienza avviene nel mondo fisico, con componenti digitali, forse meno noto, ma vi accorgerete che in realtà crescerà sempre di più questo tipo di applicazioni, anche augmented virtuality. Quindi ho un'esperienza virtuale, dove vado a introdurre oggetti fisici o elementi del mondo reale. Ok? Qualche esempio, giusto per, questo è un concetto che è stato rilanciato ultimamente da Microsoft con i termini mixed reality. Mixed reality non è una categoria, ma di per sé è un brand, marchettaro, diciamocelo, ma ha anche il senso di dire, io vado a coprire diversi aspetti, di solito parliamo di human-computer interaction fra pc e persone, di perception fra computer e ambiente, robot che si muovono, visione, oppure, vabbè, tra umani e ambiente, quello che è la vita quotidiana. Questo insieme di mixed reality, dove ho un'interazione fra computer, ambiente e persone, è tutto quello spettro che mostravo prima. Giusto per fare, questo cos'è? Virtual reality, ovviamente. Mondo completamente virtuale. Questo, dai, ci abbiamo giocato tutti, realtà aumentata di un certo tipo, ma sempre realtà aumentata. Pokémon Go. Questo è già più complesso. Qui è un'esperienza virtuale, in un ambiente completamente virtuale, ma con persone reali. Quindi fa parte di quella virtual augmented, di virtualità aumentata in italiano, suonano veramente male, che però è una tipologia di applicazioni che vedrete sempre di più. Sky, tutte le applicazioni di Sky sono fatte così tipo. Augmented reality, Top Gun, device che esistono realmente da oltre 30 anni. Altra forma di augmented reality, QR code, device fisico, visualizzazione digitale e reale. Questo c'è a Malpensa e a Linate, una cosa simile, se atterrate. Ancora, esperienza virtuale, però con interazione fisica. Quindi è un tipo di virtualità aumentata, perché l'esperienza è tutta virtuale. Io non faccio un'esperienza nel mondo fisico, ma sto comunque interagendo col mio corpo. E questo poi ne sono molti altri. Virtual reality ancora. Quindi in tutto questo spettro di virtual continuum ci sono poi sotto categorie che qui ora non è neanche utile andare a elencare. Però ci sono, vuol dire che c'è una continuità. Non è pensabile separare in modo netto i due estremi, dire ah, questo è virtual, questo è augmented, fine. Ci sono tanti step intermedi e vi accorgerete che quello che le persone vogliono è un'esperienza sempre più ricca e variegata. Parto della virtual reality, che è la più nota, per farvi anche un po' i confronti di come le aziende lo percepiscono. La virtual reality è nata con quella forma di sinistra, si chiama cave. Sono delle stanze, le prime ambienti virtuali creati, dove la riproduzione era sugli ambienti. Vengono ancora oggi usate in alcuni casi. È una realtà virtuale, perché ha tutti gli effetti una riproduzione nel mondo virtuale, però le persone si muovono. Quindi anche qui, quello che ha sdoganato in realtà in modo massiccio, in realtà virtuale, sono i display montati sulla testa. Quelli che avete provato di sopra ai nostri stand. Quindi una modalità completamente diversa rispetto a un ambiente dove mi muovo. Giusto per citarne qualcuno. La vera, come dire, spinta è nata sicuramente a Google Carboard, regalato come gadget ormai 5-6 anni fa, in realtà generato a seguire tutta una serie di prodotti anche commerciali, dove Samsung sicuramente è quello che ha copiato meglio e ha potenziato meglio questa idea. Mobile VR, device mobile, potenza tutto sommato limitato, però il concetto ci siamo. Ambito diverso, console. Console, al momento l'unica console di ampio uso commerciale, ce ne sono più piccole, con progetti secondari, su chi start ne arrivano continuamente. PlayStation, stesso sistema di visore montato sulla testa, con un tracciamento, quindi anche un tracciamento esterno. chi fa da padrone in questo momento nel mercato VR sono quelli principali, Oculus e HTC. I due device che si contendono a seconda dei gusti il primato nel mondo VR. Personalmente HTC ha un display migliore, Oculus ha dei joystick nettamente superiori, anche perché è arrivati circa un anno dopo. Quindi c'è stato tempo di copiare. Però vorrei aggiungere un'altra caratteristica. Questo tipo di tecnologie si chiama outside in. Cosa vuol dire? Che per essere tracciati, per avere una mobilità, non ho bisogno soltanto del visore. Il visore mi darebbe al massimo la possibilità di guardarmi intorno, ma non posso muovermi. Se voglio aggiungere questo grado di libertà in più, cioè la possibilità di muovermi nell'ambiente, ho bisogno di posizionare delle camere, delle torrette fisiche, che emettono una luce infrarossa, che viene riflessa dai device, e questi device, le approvazioni della posizione, ti permette, portandola nel virtuale, di mappare la posizione dei joy, che stica la posizione della testa, e eventualmente la mobilità. Soluzione che ha una precisione molto alta, molto alta, una bassa latenza, perché tutto sommato è più facile osservare dall'esterno un oggetto che si muove rispetto a calcolarlo dall'interno, i contro ovviamente sono il setup, non tutte le stanze, diciamo, ci sono pensate per il VR, e non solo. L'altro grosso problema è l'occasione, cioè se ho più utenti che vogliono giocare contemporaneamente, questo fa un po' a cazzotti, perché potrebbe essere che un utente copre l'altra persona che sta giocando. E l'altra, se voglio avere uno spazio molto grande, o ancora, ho bisogno di N camera che mi seguono per tutto l'ambiente. Però è la soluzione commercialmente più diffusa. Devo leggere leggermente diversa, che fino allo scorso anno era relegata a pochi progetti di ricerca, era quella inside out. Quindi non ho più una telecamera esterna, ma ho il visore stesso che monta delle camere, che permettono di tracciare la posizione della testa e dei eventuali joystick. Vantaggi? Sicuramente non ho setup, lo attacco al mio PC, inquadro i due joystick, e ottengo subito l'informazione. Posso in teoria muovermi, posso cambiare stanza facilmente, ha anche dei limiti. Ovviamente questo calcolo che viene fatto, di prospettiva è molto più pesante rispetto all'osservare dall'esterno l'immagine. L'altro problema, ovviamente, se io perdo il focus, quindi la camera viene oscurata, lui si perde completamente. Non posso mai riacquisire la posizione se perdo completamente la visione. Pro e contro sicuramente è una tipologia che molti seguiranno. È già stata annunciata, anche da Vive e da Oculus, stanno creando cose simili, perché semplifica il setup, e se devi venderlo in milioni di pezzi, hai sicuramente bisogno di questa cosa. Una cosa del genere. Piccola parentesi, ma secondo me sempre più rilevante, è legata a quella che stanno arrivando tutti i VR accessori, che se ci pensate, stanno cercando di portare oggetti fisici nel virtuale. Quindi il discorso che facevo prima, quindi dei vari livelli, questa è la sua dimostrazione, dal tracciatore del Vive, al lip motion che è sopravvissuto grazie all'idea che qualcuno ha attaccato sopra un Oculus per sopravvivere. Questo è molto figo, l'ho provato a Smao, se qualcuno era a Smao qualche giorno fa c'era, bello, ovviamente ingombrato, e ti permette di simulare una camminata in un ambiente. Quali sono gli scenari in realtà su cui la VR sta dominando e anche quali sono i limiti? Facebook sta lanciando la loro piattaforma di social VR, Microsoft ne ha comprato un'altra, quindi sicuramente applicazioni social di varia natura sono quelle che il mercato, o almeno i grandi brand, stanno andando a spingere. Dall'altra parte, gaming. PlayStation, uno degli elementi di chiave di PlayStation, parlavo con delle persone di MediaWorld, rispetto a Xbox, è stato nel lungo periodo anche un visore VR e lo sta diventando sempre più, perché stanno nascendo anche titoli pensati in VR, che non è semplice. Quindi, da una parte, questi sono sicuramente i scenari ideali, in molti casi, vista anche la continua ricerca di portare il reale nel virtuale, ci si accorge che molti scenari professionali, in realtà, più che un mondo VR, stanno cercando disperatamente di passare a un mondo di realtà aumentata. Questi alcuni dei brand più noti, ma, per darvi una review, di quanti stanno lavorando comunque sul VR. Quindi, il mondo VR è un mondo fatto già da grandi brand, se vedete, ci sono tutti, c'è PlayStation, c'è Microsoft, quindi c'è Sony, Microsoft, c'è Facebook, che investe tantissimo su questo aspetto, e Google, che aveva già i suoi progressi, sia in VR, che in augmented reality. Questa è un po' la prospettiva che abbiamo al momento di VR. Quello che sicuramente sta crescendo è poi la parte in realtà aumentata, perché, come dicevo prima, è un'idea tecnologie nuove, che sono finalmente arrivati disponibili, accessibili, in modo più semplice, e, secondo me, cresceranno tantissimo. Anche qui, piccolo overview, vedete, ci sono praticamente tutti. Alcuni nomi, forse, non erano ancora aggiornati nella slide, ma Apple, Microsoft, Google, stanno tutti investendo fortissimo, anche in realtà aumentata, con quello che si porta dietro, anche Qualcomm, Intel, quindi produttori di device e processori. Facciamo un po' anche qui di chiarimento. Ci sono principalmente due tipi. Quando si parla, dice, ah no, ma Apple, Apple Archite non è realtà aumentata, ah no, Google Glass non era realtà aumentata, HoloLens è realtà aumentata. No, in realtà sono tutti realtà aumentate, fatte in modo diverso. Tu puoi avere una realtà aumentata ottica, dove ho un visore in qualche modo trasparente e proietto su questo visore il digitale, o sistemi con telecamere che proiettano il mondo fisico sovrapponendo un layer digitale. Entrambi questi mondi si basano e riescono a funzionare grazie a una cosa che si chiama Visual Inertional Odontometry. Cos'è? È un principio di derivazione dalla guida autonoma dei robot, essenzialmente, che permette di ricavare delle feature visuali, quindi da una camera estraggo dei punti che seguono il suo spostamento grazie a diversi spostamenti delle camere e grazie a una IMO, a un accelerometro, a un giroscopio. Come funziona? Tendenzialmente hai la camera che dicevo e le IMO traccia le feature ogni circa un trentesimo di secondo mentre una IMO che è molto più veloce una IMO lavora nell'ordine del mille acquisizioni al secondo quindi hai un campionamento di dati molto più rapido ovviamente quali sono i due problemi? Che in quello visuale è un tempo un trentesimo di secondo è tanto se voglio avere un attracciamento preciso dall'altra ho troppi dati e ho troppo rumore cosa accade? Che solo combinando questi due filtro di calma o altri per chi ne conosce qualcosa ti dà una stima quanto meno precisa di quello che accadrà come funziona? Due occhi nostro caso il nostro cervello comunque funziona in questo modo un po' di algebra e quello che accade è che io ho un punto questo punto viene visto dall'occhio destro e dall'occhio sinistro se voglio calcolare la distanza da un punto per esempio faccio la proporzione di elementi focali piuttosto che la distanza tra gli occhi che sono parametri noti e calcolo una distanza o una posizione nello spazio come si fa a fare questo con un solo visore con un solo punto di camera? beh questo diventa un po' più complicato diventa più complicato perché gli errori come dicevo prima si accumulano e quindi in realtà quello che è la fortuna di AirKit AirCore è un ottimo algoritmo di pulizia dei dati dell'accelerometro e del giroscopio questo è AirKit AirCore non è chissà quale framework di realtà aumentata hanno implementato algoritmi ottimizzati per i diversi device che permettono di avere una precisione di stima della posizione sia con l'accelerometro che con la camera questa è la differenza di AirKit e AirCore rispetto ai Wuforia ARToolkit per chi lavorava tanti anni fa tutti i frame in realtà aumentata che già esistevano e facevano esattamente la stessa cosa soltanto difficilmente integravano i dati dal cererometro perché erano troppo sporchi l'immagine è un po' sgranata vedete due immagini in sequenza prese dalla stessa camera non è un disturbo ma è la sovrapposizione vedete che i punti si sono spostati tra il verde e il rosso questo è lo spostamento delle feature combinato con la velocità che io posso derivare dallo spostamento dell'accelerometro riesco a calcolare la posizione metrica di uno spostamento nello spazio venendo ai due più famosi AirKit presentato ormai 6-8 mesi fa entrato in produzione con iOS 11 come dicevo prima ti fa fare questo ha una parte di face tracking vero questo me ne avevo dimenticato che è un po' l'unica vera differenza con AirCore è ottimizzato sui loro device perché il nuovo processore 10 volte più potente sì quello che abbiamo visto prima è una crescita normale normale che ogni 18 mesi ho un iPhone più potente non è nulla di straordinario però avere questa possibilità di ottimizzare su device è sicuramente un valore aggiunto cosa interessante e poi sono le due la comprensione della scena quindi posso calcolare dove sono in uno spazio se avete provato a usare AirKit non so se c'è stata prima o ci sarà domani a sessione su AirKit quello che fai è inquadri una zona che ricava un perimetro e in questo perimetro li potrai muovere e posizionare gli oggetti in base a questo poi molto interessante soprattutto in ottica utente è la stima della luce perché io posso poi piazzare ombre in base alla luce che AirKit riesce a rilevare della scena quindi cambio e abbassa l'intensità luminosa sembra una cavolata però questo vi aiuta ad avere immagini realistiche che non potresti avere altrimenti AirCore cambia poco attenzione se lo cercate su Google questo in Italia capita tra l'altro visto che è un prodotto di Google è due volte divertente ma andando avanti anche questo ti permette di fare motion tracking quindi posso rilevare lo spostamento di oggetti e posizionarli rabbit o confronto in realtà fanno le stesse cose cambiano soltanto i device ancora vedete non è che funziona su tutti i device Android perché ho bisogno di sapere che accelerometro e che giroscopio c'è sul device quindi non funzionerà mai su tutti i device funzionerà sui device che garantiscono delle specifiche per questo tipo di kit lato sviluppo non cambia molto in realtà ad oggi questi ambiti Unity domina quindi se volete sviluppare applicazioni con AirKit AirCore il consiglio di andare su Unity però ovviamente poi c'è da un lato l'integrazione con i scoder l'altro con Android Studio o framework come Xamarin che ti permettono ci sono vari tool che stanno nascendo vari nugget che stanno nascendo per buildare contemporaneamente sia Android che iOS rispettivamente con AirKit AirCore usando un engine che si chiama Eurosharp che è un'interessante soluzione perché una volta sola billi su tutte e due sfruttando le caratteristiche di un'applicazione non di Unity perché se avete provato a usare Unity usare Unity per sviluppare applicazioni intere è molto oneroso su tutta quella che è la gestione di una normale app quindi si perde molto più tempo che in altri AirCore è in realtà Tango qualcuno ne ha sentito parlare nella mia presentazione in storia c'era Tango poi tra giugno e oggi sono cambiate un po' di cose quindi è giornata Tango cos'era? in realtà Tango era un brand di un insieme di tecnologie messe insieme era una collaborazione fra Google Intel in realtà c'era anche Qualcomm quindi era un mix di produttori per avere un device questi erano i prototipi che permettevano di fare che cosa? un tracciamento usando multicamera quindi una visione stereoscopica in infrarosso e a colori quindi ci avevano messo un po' di tutto nel dubbio e la vera caratteristica è che rispetto alle possibilità di R-Kit e R-Core di rilevare alcuni punti e estrapolare un piano quindi avere una nuvola di punti non molto densa questo tipo di device permetteva di fare nuvole di punti dense cosa vuol dire? che se voglio fare ricostruzioni di oggetti quindi guardo inquadro diverse angolazioni in oggetto questo era un device molto più accurato la risposta del direttore della nuova divisione Google sul prodotto ha detto vabbè R-Core è quello che serve per le hub che tutti vogliono e non ha tutti i torti Tango era un device per noi per i sviluppatori che cercano anche casistiche un po' estreme ambiti estremi di tracciamento di robot tracciamento di oggetti ricostruzione di oggetti R-Kit e R-Core sono ovviamente pensati per l'applicazione che l'utente scaricherà una volta e che poi disinstallerà siete Ikea dovete ingaggiare in qualche modo il vostro utente sta arredando casa ma non è che arreda casa tutti i giorni quindi realisticamente sono applicazioni che vengono usate possono essere usate per giochi che è un altro settore sicuramente interessante se ci fate caso Apple presenta sempre quello come scenario perché sono applicazioni più tranquille diciamo da un punto di vista concettuale sono applicazioni che l'utente comune potrebbe utilizzare e quindi ha senso che siano su uno store e di queste applicazioni ce ne siano milioni quindi ogni brand avrà la sua applicazione oppure avrà la sua integrazione su web per avere la possibilità di interagire ingaggiare in modo diverso l'utente questa è un po' la visione che hanno avuto di Apple e Google sulla realtà aumentata ci sarebbe da parlare anche di Google Glass che è anche quello non è morto ritornerà sicuramente che ha un ambito molto diverso era un display più che di realtà aumentata che sovrapponeva informazioni però è sicuramente un aspetto quello che ha un po' risvegliato l'entusiasmo generale di tutto il settore che secondo me ha l'effetto del primo iPhone sul mondo del mobile è stato sicuramente questo device HoloLens device di realtà aumentata anche questo nonostante il termine mixer reality stiamo parlando di realtà aumentata con un approccio diverso è un device fisico dedicato però sfrutta le stesse cose giusto per darvi un'idea mentre parlo ne avrete visti quindi giusto un po' di colore qual è il punto tu hai un device che vado ad accendere se no se non cado hai un device compatto trasparente quindi qualcuno di voi l'ha provato su da noi mentre facevamo un po' di pausa è un device che ti permette di interagire con le persone a mani libere non ho un device che devo tenere in qualche modo è completamente autonomo che non è poco e ha una batteria che in uso continuo arriva tranquillamente alle due ore e mezzo o tre ore noi facciamo anche eventi di più di tre ore che sarebbero impensabili fare con un dispositivo mobile che riproduce in VR in realtà aumentato un'applicazione gli usi anche qui che sono pensati vedete che sono molto diversi la proposta di uso è un uso professionale perché è un device come dicevo tutta la tecnologia in realtà di questi device che pensare di uno solo è un po' indiettivo orientato fortemente al mondo industriale business professionale dove io non posso isolarmi dalle altre persone ho bisogno per esempio noi lavoriamo in industrie che non possono ignorare quello che accade intorno quindi questa è una delle caratteristiche di completamente diverso interazione in questo caso con gesture quindi clicco e l'applicazione parte o interazione vocale poi siete invitati a provarlo oggi o domani se non l'avete mai fatto è difficile è facile in realtà sono poche gesture che si apprendono in veramente pochi secondi giusto per darvi un'idea del device ci provo visto che in questo ancora non ci sono altre sessioni mi sembrava giusto mostrarvi almeno per qualche secondo giustamente se ok voi probabilmente vedrete le cose leggermente mosse perché la nostra testa si muove naturalmente ma dal mio punto di vista è tutto fermo vi mostro una delle nostre applicazioni che è un ambito non così divertente come come quella che vi ho mostrato su ma è un po' diverso questa è un'applicazione in ambito medico in realtà per visualizzare modelli 3D di persone che è dal dentista facciamo la semplice quindi acquisizione di dati tramite TAC modelli 3D ottenuti tramite scansioni intraorali e altre informazioni che possono essere catturate con fotografie e immagini in questo caso qual è lo scenario che ci immaginiamo? ve l'ho detto non sono immagini così belle come le tartarughe che vedevate sopra io posso parlare con voi posso parlare eventualmente se anche voi aveste il device vedreste lo stesso modello da un punto di vista perché l'applicazione che stiamo sviluppando lo supporta se siete in remoto potete vedere il mio punto di vista o un vostro punto di vista dell'applicazione e quello che interessa in realtà ai medici è un po' questo poter esplorare in digitale l'informazione e che no anche esplorare nativamente a cosa serve? comunicazione col paziente perché questi sono tutti gli stati che sono paziente reale quindi questa è la situazione in partenza questa è dopo l'inserimento degli impianti questa è la ricostruzione se ora sposto questo questo è il sorriso finito caso reale dati clinici reali provenienti informazioni reali vedete che io posso manipolare gli oggetti e parlare con voi posso muovermi se provate l'esperienza su del WWF che abbiamo realizzato è un'esperienza immersiva dove cammini anche per 100 metri o più nella piazza Gaio Lenti nasceva da lì e quindi hai un'esperienza molto coinvolgente caratteristica e qui chiudo per farvi un'idea questo è un dispositivo nativo questo tipo di dispositivi e anche quelli che sicuramente nasceranno da Facebook Google Apple sono dispositivi che avranno sempre più bisogno di CPU delicate la caratteristica del device e la possibilità di ottenere tutto questo è dato da un componente hardware perché alcuni calcoli l'inversione in matrice se non ottimizzata in hardware sarà sempre lenta quindi in Microsoft si è inventato questo HPU che non è altro che un un coprocessore 28 nanometri che non è neanche tanto se pensate che stiamo lavorando nuove generazioni sono fra i 14 e andranno a diminuire quindi processore tradizionale che trovate un po' da tutti però pensato per eseguire inversioni matematiche inversioni matriciali e per andare a calcolare il processing dell'immagine HoloLens ha 4 camere in scala di grigi che vengono rimappate ogni 30 secondi e creano l'ambiente e una IMU che anche questa viene integrata per ottenere la posizione assoluta la cosa bella è che combinando queste due cose una cosa che non si può fare in quale architvercore io posso accecare momentaneamente il device e poi ritrovo gli oggetti nella stessa posizione oppure torno in ufficio questa sera ho le finestre che avete aperto le ritrovo nella stessa posizione questo era un overview sui principali device ma non sono i soli ce ne sono molti altri questo è meta promesso a molti sviluppatori non so quanti hanno ordinato il meta è arrivato? io sono andato da loro a San Francisco non me l'hanno fatto vedere prima o poi arriverà l'altro invece è un prodotto industriale si chiama Vuzis che è probabilmente in ambito industriale la realtà è aumentata oggi ma molti altri ne arriveranno sicuramente c'è anche il vecchio Vufori in realtà tutta la parte visuale non è morta anzi si sta adattando sempre più e continua a essere molto interessante in tutti quei casi dove non hai bisogno di spostarti non hai bisogno di tracciamento continuo delle persone quindi è ancora un'ottima soluzione che permette per esempio di avere una soluzione dinamica perché i tag o le immagini che usi come riferimento che puoi camuffare in immagini in foto quello che vuoi possono essere cambiate dinamicamente tramite il cloud quindi posso cambiare i modelli senza dover ricompilare applicazioni o senza bisogno di riposizionare gli oggetti ho finito quindi abbiamo visto cose in realtà vedremo cose che fino ad oggi erano immaginabili saranno sempre più comuni perché perché la tecnologia evolve e perché le prospettive delle aziende sono diverse ma vedete stanno tutti puntando molto su via realtà aumentata che andrà integrata sempre di più con machine learning sulla parte di riconoscimento di oggetti HoloLens questa prossima versione già stata annunciata avrà un coprocessore dedicato al machine learning e stessa Qualcomm sta presentando un'architettura dedicata per visori quindi questo è un elemento chiave grazie per tutte le domande e curiosità abbiamo ancora 5 minuti 10 minuti quindi se avete domande chiedete e siamo qui grazie si 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 ah ok grazie grazie ecco se devo decidere quale tecnologia cioè da Unity creare per Archit o per ArcCore la situazione è totalmente differente oppure tutte le applicazioni si basano sul concetto che la camera è il device che si sta spottando che sia HoloLens che sia VR che sia Archit o ArcCore il principio è quello cosa cambia che i parametri intrinseci di queste camere sono tutti diversi cosa vuol dire che stanno nascendo dei framework di astrazione per cui tu puoi scegliere al momento di buildare quale dei due scegliere senza che dover andare a mano a sostituire la camera che è essenzialmente l'elemento chiave stessa cosa per l'astrazione di alcune funzionalità come la luce che sono presenti in tutte e due il motivo per cui parlavo prima di Xamarin e Urosharp è un device che va in un framework più semplice perché non è un framework pensato con un editor visuale quindi da una parte non vedrai i modelli non avrai un editor carino come i modelli per posizionare la scena ma dall'altra puoi astrarre le applicazioni e andare solo quando ti serve a implementare la parte nativa quindi quella è un'altra soluzione altrimenti sì tecnicamente passare da un'applicazione all'altra vuol dire quantomeno cambiare sempre la camera e portarsi dietro se vedi in Unity quando vai a scegliere la realtà aumentata già ora dalla versione 2017 beta 4 dovrebbe essere l'ultima che ogni mese cambiano poi hanno cambiato anche i nomi dovresti avere la scelta di più device tra cui Archite e Arcora per HoloLens invece gli SDK allora per HoloLens si sviluppa ancora di base con puoi scegliere tra Unity c'è un supporto secondo me non altrettanto avanzato per Unreal di base avrai sempre bisogno di Visual Studio perché quando devi buildare un'applicazione in un VP come target finale e vuol dire portarsi dietro almeno alcune delle SDK di Windows la cosa che molti fanno è c'è HoloToolkit HoloToolkit semplifica alcune operazioni ma in realtà molte altre le complica tantissimo perché Unity salvo andare a cambiare i parametri usa Mono perché deve essere cross platform in realtà voi potete andare a utilizzare applicazioni fino a C Sharp 7 e quindi con tutta una serie di funzionalità che vi perdete se non usate se vi limitate a utilizzare HoloToolkit per esempio quindi vi serve sicuramente avere almeno l'idea che si può andare a mano a modificare un progetto che è un progetto a tutti gli effetti un progetto VP quindi un progetto Windows 10 e usare tutto lo set di API di Windows che è molto più ampio delle funzionalità che puoi mettere quindi questo c'è anche in arrivo la parte di BabylonJS che è un framework JavaScript che però ancora è in pre-beta da un po' ancora non è stato con l'arrivo di tutta la parte Mixed Reality c'è stato un grosso rename e unificazione quindi se state lavorando su dei progetti è già nel roadmap è già sul GitHub pubblico a novembre ci sta dei breaking change per fare la parte VR quindi Mixed Reality con caschetto e Mixed Reality HoloLens trasparente se penso di averte risposto perfetto qui nelle slide poi ci sono tutti i riferimenti anche articoli link se vi servono cose ci sono i miei contatti chiedete voi altre domande laggiù una domanda un po' diciamo sempre riguardando comunque la realtà aumentata io sviluppo su Unreal Engine con l'Art Toolkit però ci sarebbe la necessità di fare delle applicazioni Xamarin ci sarebbe la necessità di poter fare la realtà aumentata ma su Xamarin voglio sapere ma il sistema di quell'SDK lì che è OARS non mi ricordo come si chiama per Xamarin per l'Art io posso avere dei modelli come faccio con Unreal in FBX da portarmi di là da poi poter inserire e gestire UroSharp è il porting di Uro che è un altro engine quindi mi sembra supporti anche gli FBX sicuramente supportati quindi puoi esattamente riciclare le applicazioni che sfruttano Xamarin e UroSharp hanno da una parte l'integrazione con l'engine quindi per creare le scene dall'altra hai un livello di astrazione che ora include AirKit ah ok ora se vedi ci sono dei nougat che stanno uscendo proprio per AirKit e HoloLens ottimo questo è il primo di due ArcCore ancora non è disponibile ma c'è in pre-beta proprio perché in realtà sono talmente tutti nuovi che anche HoloLens ogni sei mesi evidentemente cambiano completamente l'astrazione più che altro perché il discorso che io provando con Unreal Unreal è una centrale atomica su dispositivo ovviamente te lo uccide magari Xamarin ma è forse più leggero più che Xamarin è UroSharp che è l'engine di rendering che è molto più leggero e ti semplifica invece Xamarin ti semplifica tutta l'astrazione per esempio l'accesso al disco salviamo un file su file system non è questa operazione però fatta da Unity o fatta da Unreal spesso porta via una quantità enorme inutilmente infatti perché sono operazioni CPU e non GPU per cui non è pensato al device per esempio HoloLens io sono passato velocemente nella struttura blocchi che c'era sopra c'è un po' di immagini e repertorio per dirvi che non è così nuova né realtà aumentata né realtà virtuale questa architettura vedete qui c'è una parte questo è il processore che è un atom non è questa potenza questa è la CPU tutti i sensori di camera e di calcolo lavorano con la CPU che parla direttamente col processore in linguaggio processore quindi in assembly processore quindi per quella parte velocissima cosa fa la CPU? la CPU si occupa dell'accesso alla memoria e di tutte quelle che sono le funzioni aggiuntive come wifi sensori bluetooth lo streaming che stavo facendo prima quindi operazioni che non avrebbe senso fare né con la GPU né tantomeno con la CPU che sono dedicate ma operazioni generiche per cui la CPU è la soluzione tutt'oggi migliore ok va bene grazie infinite altre domande? oppure su c'è la birra se volete continuare possiamo continuare tranquillamente anche dopo grazie siete rimasti con tutti i film alla fine quindi sfidando lo sciopero